Ciao, questo è il secondo video di oggi, di questo 7 novembre 2024. Si intitola Tu hai già capito, tu l'hai già capito. Mi è venuto così, nel senso che noi sappiamo già quello che abbiamo vissuto. Noi sappiamo quello che abbiamo vissuto, ce lo ricordiamo. No, basta un istante, un sentito e in un istante sappiamo quello che non ha funzionato, quello che ha funzionato. Quello che ci ha dato fastidio nella nostra infanzia. Forse qualcuno si ricorda anche la gravidanza di sua madre, quando era dentro. Vabbè, comunque noi lo sentiamo. Se non ricordiamo quello che era noi in nove mesi, sappiamo dove sta il problema. E immaginare che noi abbiamo bisogno dello psicologo, psicoterapeuta, per comprendere dove sta il problema, è assurdo. È assurdo. L'unica cosa che noi sappiamo è quello che abbiamo vissuto. E non abbiamo bisogno di nessuno d'altro per comprenderlo. Poi ci può stare quella psicoterapia, quel lavoro forte, profondo, pseudo mezza ipnosi, per togliere quelle emozioni, quell'energia stagnante, quel vissuto di lacrime che va tirato fuori. Va bene, ok. Però, ti cido a trovare uno bravo. E dunque a questo punto, se tu hai capito cosa c'è che non va, beh, adesso è il momento di stare bene. È il momento di iniziare a vivere. Non puoi piangerti addosso tutta la vita. Oh, mi hanno fatto quello, mi hanno fatto quell'altro, essere la povera vittima, perché ti hanno educato a essere una vittima, non sei mica tu che scegli di essere una vittima. Assistenti sociali, psichiatri, educatori, formatori, tutti dicono, ah sì, hai vissuto quello, poverino. Poverino un cazzo. Sei una persona ricchissima, sei una bellissima persona. Devi semplicemente vivere. Fermati tra due parole, tra due lavoretti, tra due dormite, tra due bicchieri e sorridi nel silenzio, ok? Un abbraccio, un augo. Iscriviti al canale, metti mi piace al video e condividilo con gli amici. Volevo solo dirti che tu sai quello che hai vissuto. C'è mica bisogno qualcuno per dirti quello che hai vissuto? Invece per tutt'altre cose abbiamo bisogno di qualcuno. Per poter dormire in una casa, per mangiare, per mettere a posto questo corpo. C'è bisogno di un chirurgo. Per andare in macchina c'è bisogno del garagista, della benzina, ok? Ma per sapere chi siamo abbiamo solo bisogno di noi. Bacio, ciao.